Sarebbero estranei la vittima appartenente ad una donna ai capelli biondi ritrovati nelle mani di Maria Concetta Velardi, la vedova di 59 anni assassinata a colpi di pietra al cimitero di Catania il 7 gennaio scorso. Secondo Giuseppe Lipera, il legale del figlio della donna Fabio Matà, che compare nel registro degli indagati, un ulteriore elemento che contribuisce a fare chiarezza nelle indagini in corso per risalire al presunto e presunti assassini della donna. Come se lei li tenesse, le avesse strappate, lei per difendersi magari, per resistere a questa violenta aggressione, gli siano rimasti fra le mani. Perché ci sono diversi indagati, però al nostro modo di vedere questo dà una luce ancora diversa su cui si devono fare delle indagini, la polizia deve assolutamente indagare. Un ulteriore elemento che serve a tracciare l'identikit dell'assassino, un reperto tra l'altro che combacia con i graffi dietro la schiena riscontrati nella parte sagrale destra del corpo della vittima, segni evidenti compatibili secondo gli esperti per la sottigliezza del tratto ad un'undia puntita di una donna, ipotesi confermata dal consulente di parte per il medico legale Antonella Milana. Intanto l'avvocato per conto della famiglia ha fatto richiesta di riesumazione del cadavere. La signora sta scappando chi l'ha inseguita, tra gli altri pensiamo che ci sia una donna, abbia tirato questa maglietta, infatti c'è una maglietta qui che è strappata. Con una tale violenza da strappare la maglietta che era sotto il maione. Sì, e poi qua c'è un graffio, in questa parte della schiena c'è proprio un graffio, abbiamo chiesto le riesumazioni del cadavere proprio perché si accerti a chi possa appartenere l'unghiata, chi possa essere stato a creare questo tipo di lesione, a lasciare questo tipo di traccia. Grazie a tutti.